Eccoci qui, davanti a un portone, un golem e una suite azura Ce la faremo? Ma andate di sfondamento con buttuglia Avanziamo! Bon basta C'è cinta? No Che ne sono abita? Che ne sta? No Qui è dovuto venire Vai Ci sto capincazzo con chi sta in parte con chi no Per il principale Ok, adesso torniamo E' un po' più difficile switchare arma con l'elementarista però è veramente comodo C'è, è utile C'è, è utile Fury Graf Sword Ah, è la spada di fuoco c'ho C'è, è utile Oh Chi sono? Eh, ciao Poi sono tutti... C'è tutto il fan sta sotto attacco dei nostri... Come? Red Lake è sotto attacco Red Lake non è più nostro, eh? Non è più nostro Eh, quello delle saffle è il nostro, ma sotto attacco Plassian Ah, cazzo Eh, è difficile tenere tutta una mappa Ah Deverebbero tante di quelle persone collegate Ah, sì Oh Sono scesi? Che sia successo? Sono usciti Oh, sono usciti adesso? Sono usciti Abbiamo sfondato il muro comunque Ah Ah Ah, se fosse ce la faccia resta Vai, vai Ok Ok Aspetta che mi metto comodo Oh Cazzo usciti, son qui? Se ci hanno preso le spalle tipo Ma Guarda un bel fucilotto Va da entrare dentro le mura Che siamo tutti più o meno dentro Sè, sì No, infatti non capisco Non sto capendo la cosa Cazzo, son morto Servo Per essere abbetto gioco Tava facce Che sono morti tutti Eh, penso proprio di sé Questi hanno aspettato il sfumore Un po' da regolari Non si può saltare Il fatto in culo Anche se Spesso, spesso, spesso Ah sì, ci hanno fatto orante bene a studi G Ah, sì, ci hanno fatto orante bene a studi e spettacolo qualcuno mi riuscirà sicuro tutti i nomi non c'è la sua stessa mario un po' per favore per favore che vuole o c'è il sinistro solo per favore se riesco all'aiuto ma per favore amore un grande per favore io sto fuori per quello che c'è dentro eh io sono qui sopra no non ce l'ha affatto arrestando di poco no no c'è troppa gente oh oh manca uno sputo per essere vivo la vostra ce la rifà ma grande grande la vostra ce la fa io mi stanno arrestando non mi hanno arrestato per uno sputo veramente no no questo che mi ha fatto c'è un cazzo c'è un cazzo non so perchè mi lascia un vivo ok cazzo 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 l'est grande ebbio cazzo tutto lontano chiuso santa leone lo rischio ma Jean hanno richiesto le porte si stanno riparando un po la volta ma tanto adesso cade perché tanto non ce la fa l'arrestato grande fatto prima è riuscito nooo cazzo sono arrivati qua alla fine questo ce lo facciamo lesto facciamocelo insieme qui ce ne sono 5 6 sopra e voi siete dentro o donna quanti sono se il senso il senso questo me lo faccio questo me lo faccio anche un uso fatto non però potevano fare un'uscita un po' meno distruttiva eccomi dov'ersi buttar giù ogni volta da io ma siamo rimasti usi udenti oddio dove siete ancora gundar sold no aspetta cos'è no ma anche che state attaccando dreadful si si dreadful la fate no sai se vieni anche tu si ah oh ho chiamato l'amichetto lo stronzo vieni qua tiro le pizze ok il portone esterno almeno è ancora aperto perchè è buono loro dentro hanno solo 120 sapli non ci rubano da niente dai 90 adesso li stanno usando a manetta c'è c'è ancora la m la catapulta la porta che catapulta non puoi spostarla però forse fanculo ah ma sono anche usciti la manetta e stuprali ah sta rientrando i bastardi eh ho comprato un'armadura un po' vecchio ok 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 ah Non sono più abituato con l'asta Con la staffa Non mi ha ammazzato lo spito Stai spingendo però Come? Stai mele spingendo No 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 mi è morto lo spirito Ciao niente più cura Oh cazzo Mi è morto io Slesso sono lì La terra allucinata Sì c'è una metà Guarda lì Spettacolo Cazzo si ci stanno respingendo Stanno resistendo lì In pochi Vai vai Eh non riescono Ci danno neanche uno Quello è un problema Eccomi Tanno sfondata Cazzo si ci stanno